Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione veramente molto molto importante perché nel momento in cui lo sto effettivamente girando, Giuntoli non è ancora arrivato, quindi non so poi, so bene in realtà quali sono le cose, come andranno le cose, perché ve lo raccontate tante volte, però non so nel momento poi come stanno le cose, però nel momento in cui il giro non è ancora arrivato. Tuttavia noi ci stiamo veramente interessando molto ad un giocatore giovane, italiano, che Giuntoli ha sempre voluto e che purtroppo, a quanto ne so, è di proprietà del Napoli. Credo di non fare una gaff se lo dico, visto che ho sentito un'intervista di recente in cui il suo procuratore citava proprio il Napoli come squadra, se non sbaglio, proprietaria del cartellino. Vado ad assicurarmi appunto di questo, proprio perché la Juve ha messo nel mirino un giovane talento italiano, che gioca come terzino destro a quanto ne so, ma che può ricoprire anche altri ruoli, ed è un giocatore che a mio modestissimo avviso potrebbe essere il primo acquisto di Giuntoli qualora dovesse arrivare la Juventus, anche perché questo ragazzo, quando è stato interrogato sulla possibilità di poter andare insomma in un grande club, lui ha detto assolutamente mi piacerebbe andare in un grande club. Forse sbaglio sulla situazione cartellino, ma non ricordo. Comunque non è questo l'importante, ma quello che devo raccontarvi. Prima ragazzi, prima di iniziare, ragazzi, facciamo un discorso molto generale. Mettiamoci un po' con calma a parlare. Ovviamente, prima di iniziare, iscrizione, like, campanellina. Ragazzi, veramente molto importante, mi raccomando a questa cosa, basta andare ovviamente sulla schermata, iscriversi ovviamente al canale, mettere un bel like al video e attivare la solida campanellina delle notifiche. Veramente molto importante, tramite questa potete praticamente ricevere tutte le notifiche, tutti gli avvisi, tutti gli aggiornamenti. Praticamente voi avete la possibilità di essere primi nella visione di un video. Cioè, quando esce un video voi non dovete andarvela a trovare in mezzo a tutti gli altri. Basta che voi cliccate sulla notifica e automaticamente vi appare questa faccia qua. Quindi tranquillamente potete andare a fare questa cosa. Allora, e se vi va, seguitemi sui social. Parliamo un po' di questo ragazzo che è Zanoli. Zanoli è un giocatore che gioca come terzino destro, quest'anno, se non erro, è stato in prestito. Ed è un giocatore che io l'ho visto, ho visto giocarlo, insomma, a Samp, cose varie, anche a Sampdoria. Insomma, ci sono state delle partite che ho osservato, sue, che mi hanno fatto veramente strabuzzare. Ho detto, ma come è possibile che questo ragazzo, nonostante sia così giovane, perché se non ero già 20 anni, sia già così educato dal punto di vista della posizione? Cosa vuol dire? Un errore che molti terzini giovani fanno, attenzione a quello che vi dico, un errore che molti terzini giovani fanno, qual è? Quello di dedicarsi ad una cosa sola. Cioè, quando tu fai il terzino, il terzino sostanzialmente cosa deve fare? Deve essere presente sia in fase di attacco che in fase di difesa. In fase di attacco, il terzino deve rappresentare una freccia, deve rappresentare un aiuto, deve rappresentare una grande, insomma, possibilità offensiva tramite, non lo so, la corsa, il dribbling, eccetera, eccetera. Però deve dare una mano pure dietro, perché pur sempre fa parte di una squadra che deve comunque fare le fasi. Quindi un difensore, un terzino, deve anche poter difendere, deve anche aiutare da questo punto di vista la squadra, tornando quando deve tornare, eccetera, eccetera. Quando io vedo i terzini giovani e devo valutare i terzini giovani, molto spesso vedo che loro vanno tutti avanti. Quindi vedi sta gente che gioca praticamente a 80 metri dalla porta, oppure vedi che stanno tutti indietro, quindi li vedi proprio vicino al portiere, così, e dici ma come è possibile, devi andare, eccetera. Nessuno di loro ha il metro di fa, invece lui è molto bravo, perché lui riesce al tempo stesso sia a garantire una buona capacità dal punto di vista del dribbling, del passaggio, dell'andare, insomma. Io, ripeto, non dico nulla, però è veramente bravo là davanti e dietro comunque una mano la dà. Non è che tu possa dire eccelso, però una mano la dà. Tra l'altro se io devo fare un nome di giocatore giovane, italiano, in quella posizione che secondo me potrebbe diventare in futuro un ottimo giocatore, io il nome suo, Zanoli, subito, giocatore top. Veramente in prospettiva un grandissimo giocatore, quindi se per caso ci fosse l'opportunità di prenderlo, io ti direi di prendere e fare un tentativo per prendere, perché so che la trattativa è quella che è, però se questo ragazzo ha questa cosa di voler giocare in un grande club, noi gli possiamo dare questa possibilità. Ovviamente io non ti dico di metterlo titolare fin da subito, perché è chiaro che tu a destra ci avrai bisogno di un terzino un po' più esperto, perché attualmente lui non può fare il titolare in una grande squadra, però Zanoli è uno di quelli che l'anno prossimo già lo potrebbe fare al titolare. Perché se fa tutto quest'anno ad imparare, ad apprendere, a giocare, l'anno prossimo è pronto per giocare da titolare. E noi ci ritroveremmo in squadra un giocatore giovane, forte e secondo me di giocatore, anche voglio dire abituato al nostro tipo di calcio, quindi per quanto mi riguarda è un acquisto da fare. Giuntoli lo adora tra l'altro, è innamorato di lui, Giuntoli da sempre, appena l'ha visto per la prima volta si è innamorato di Zanoli. Giuntoli no, 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 guarda, ripeto, non dico eccetera eccetera, però devo essere sincero, raramente ho visto giocatori giocare così, nel suo ruolo, così bene, cioè veramente ne ho visti veramente pochi. Quindi veramente se tu lo vai a prendere, fare un grande acquisto. Ovviamente se ti devo dare un'opinione, anche se lui è molto forte, in prospettiva, tu non puoi comprarlo a prezzi, cioè non è che vai lì da Zanoli e ti dai quello che gli dai, ovviamente Zanoli più di, faccio un esempio, stiamo già esagerando, se ti dicono 12, 12 più bonus per arrivare a, diciamo, quello già è un prezzo alto per quello che ha fatto vedere. Io ti sto parlando di talento, cioè se voi lo vedete giocare vi rendete conto che è bravo, però ovviamente tu non puoi comprare un giocatore basandosi su quello che potrebbe essere, cioè sicuramente quello influisce, però no, devi, cioè vai a comprare un giocatore per quello che potrebbe rappresentare per te la squadra, però te va a prendere anche un giocatore per quello che essenzialmente può essere attualmente, e attualmente è solamente un'alternativa, un buon giocatore da far sedere in panchina, da far giocare nelle gare meno importanti, da far crescere, e soprattutto un giocatore che comunque tu lo puoi prendere ma non ad un prezzo folle, perché se me ne vado a prendere Zanoli a 40 milioni, faccio un esempio, vado a prendermi un terzino che già oggi abbia una carriera di spessore che mi possa aiutare, perché ricordiamo sempre che noi dobbiamo, cioè ricordiamo sempre questa cosa, noi dobbiamo lavorare sulla base dell'oggi, cioè noi dobbiamo lavorare sulla base attuale di squadra che noi abbiamo, noi dobbiamo lavorare su quello che attualmente è la base di squadra, non dobbiamo lavorare su quello che noi potremmo vedere, potremmo fare, potremmo avere, noi dobbiamo lavorare su quello che c'è attualmente, capite cosa intendo dire? Su quello che attualmente ci serve in squadra, poi non hai i tuoi affacchi acquisti per i giovani, ci mancherebbe, però non puoi pagarli come li pagheresti per una grande squadra, cioè non puoi, una grande squadra oggi non va a pagare un giovane che deve ancora esplodere un sacco di soldi, lo va a pagare in relazione a quello che è la sua attuale valutazione, l'attuale valutazione di un giocatore come Zanoli attualmente non raggiunge quella che molti credono, tutto qua, ciò non vuol dire che Zanoli sia scarso, come spunta uno e mi dice Zanoli è scarso, no, Zanoli è forte, però giustamente non ci puoi pagare, è come quando tu per esempio, faccio un esempio, avete visto quanti giocatori abbiamo in Italia noi di buon livello, quanti giocatori abbiamo di buon livello, anche ad esempio nelle italiane, vi sto parlando di giocatori della nostra nazionale, giovani, lui è uno di quelli che attualmente se tu vuoi fare veramente questa cosa, vuoi prendere i giocatori in Italia, ah voglio prendere i giocatori in Italia, lui lo devi prendere, perché nel giro di un paio di stagioni, questo diventa veramente una, questo è il giro di un paio di stagioni, ma un paio di stagioni già c'è sto andando proprio così, ma proprio diventa proprio forte, forte, quindi secondo la mia opinione, se tu hai bisogno di un terzino giovane, anche come, diciamo piano, secondo me lo devi andare a prendere, perché è un ragazzo che comunque serve a quello che tu vuoi fare, poi lo puoi prendere, lo puoi dare, lo puoi ridare, ciò sta, però intanto lo devi prendere, perché è un giocatore di buonissima qualità, di buonissima caratura, che per come la vedo io, nel giro di qualche tempo, potrebbe diventare veramente un, 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 un fervido, un, un grande giocatore, un enorme talento di fama internazionale, quindi fatemi sapere un pochino voi nei commenti, qual è la, cioè no no no, ti ripeto, datemi un'opinione, cioè datemi un'opinione, datemi una vostra opinione, secondo voi lui è un grande talento, potrebbe essere preso, e soprattutto è un elemento su cui voi spendereste, fatemi sapere un pochino, quali sono ragazzi le vostre, le vostre opinioni su questo, giu vinciamo ragazzi.